Ciao a tutti, a cosa è dovuto il successo di Luis su YouTube? C'è un ragazzo che sta spopolando su YouTube che si chiama Luis Sal e che ha tantissimi iscritti nel suo canale, un sacco di views. A cosa è dovuto il suo successo? Beh, essenzialmente secondo me, almeno, è dovuto a tre fattori fondamentali. Il primo è che è la simpatia. Questo ragazzo ha una simpatia ironica, per cui non si pone, diciamo, come maschio dominante, maschio alfa, ma si pone, nonostante abbia una prestanza fisica da maschio alfa, ma si pone come ragazzo ironico, simpatico, quello che punta, diciamo, sulla simpatia fondamentalmente, sull'ironia, prende in giro anche molto se stesso. E questo credo che permetta a molte persone, a molti ragazzi, di identificarsi in lui. Poi presenta anche un, come secondo motivo, presenta anche un volto pulito, tutto sommato. In questo mondo dove magari spesso vince il trash, vincono i modelli negativi, cioè i modelli di eccessive trasgressioni, fondamentalmente, soprattutto nel mondo giovanile, l'UISP è la faccia pulita, la faccia pulita del web. Essendo la faccia pulita del web, questo suo essere, diciamo, puro, tra virgolette, o comunque un modello di riferimento, tutto sommato positivo per i ragazzi, anzi sicuramente positivo perché è un ragazzo che veicola comunque valori positivi, questo fa sì che, paradossalmente, lo faccia entrare nella categoria dei trasgressivi, cioè perché trasgredisce la trasgressione. Essere istituzionale alla sua età oggi è veramente trasgressivo, e quindi questo lo proietta, diciamo, nel piace, insomma, piace per questo motivo. Credo che abbia un pubblico prevalentemente giovane, ma probabilmente anche alle mamme dei ragazzi è un modello che piace, insomma. Il fidanzato ideale per le figlie di molte mamme, credo che magari lo seguano. E poi un altro, diciamo, un altro suo punto di forza è la capacità di montaggio dei video, quindi fa video professionali, diciamo, nel senso che sono molto belli, con effetti speciali, cose varie, quindi questo sicuramente aiuta e fa sì che la qualità comunque premia sicuramente i suoi video. Quindi un modello positivo nel web per i giovani e credo che il suo successo, credo che non sia una meteora, ma che possa continuare tranquillamente a crescere con questi numeri molto, molto elevati. Bene, per questo video è tutto, lasciate i commenti qua sotto e iscrivetevi al canale. Ciao!